Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il 16 aprile 2017 il Signore, nella sua immensa grazia, mi ha chiamato a sé. Mentre vagaro, sconsolata e afflitta, dopo aver sperimentato l'inconsistente e ingannevole felicità che riserva il mondo, l'Eterno mi ha raggiunto. Nel piattale esterno di un supermercato e il coraggio di rivelare la mia sofferenza a un uomo, che all'epoca per me era poco più che uno sconosciuto. Eppure Dio produsse in me il volere e l'agire necessari affinché si avventisse il suo progetto. Così quest'uomo, il fratello miseriano Polica Pocoie, mi consiglia di recarmi la domenica successiva in un luogo chiamato Chiesa. Mi sono così strano e ridicolo. Eppure, alquanto riluttante scelte, cambia il caio di ricatoli. Gloria a Dio. Amén. La Gesù mi parlò tutto il cuore. Venite a me con tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Sono le parole tratte dal Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28, che mi cambiarono radicalmente la vita e mi trassero in salvo. Alleluia. In quel momento, in un pianto liberatorio, scoprita per la prima volta che esiste qualcuno in grado di portare i pesi al posto nostro, e che si occupa con l'amore di me, sostenendo il mio contino. Che sollievo! Non sono più da sola e non devo preoccuparmi con affanno del mio avvenire. Adesso posso vivere con la certezza che Dio ha pieno controllo, non ho più niente da tenere. Alleluia. Da allora ho iniziato a camminare volendo seguire le robe del Maestro, instaurando un rapporto di intima conoscenza, in continua crescita e progresso. E che mi porta a più oggi a dichiarare il mio immenso amore per Lui, e a testimoniare quanto sia infinito il suo amore per me. Tale consapevolezza mi permette di gustare quotidianamente la gioia ad uno scatto che non avevo mai sperimentato prima. È nata in me l'esigenza di essere battezzata per compiere un atto di assoluta obbedienza e totale abbandono a Dio, con l'intento di rendere ufficiale questa mia consacrazione ed esternarla pubblicamente. Grazie Gesù per avermi trattato in salvo da una fossa di perdizione. Ora Dio partengo e desidero dedicarti l'intera mia esistenza. Desidero servirti con gioia insieme ai fratelli e alle sorelle di questa comunità. Una comunità che è anche la mia famiglia e nella quale il Signore mi ha inserito in un secondo momento rispetto alla mia conversione, ma che Egli sapeva essere il luogo più adatto e attenente alla mia personalità, dove poterlo dare e servire nel migliore dei modi. Sì, perché i miei progetti, oh padre, sono sempre la soluzione migliore e perfettamente adeguata per i tuoi figli. Se avevi predisposto che io ti incontrassi nella chiesa Adi, situata in Ariattosi, qui a Romigo, mi hai poi dirottato attraverso un incontro per così dire casuale, qui, nella chiesa Battista, alla quale mi sento orgogliosa di appartenere e dove ti servo sempre con tanta gioia. Signore, lo scopo della mia vita è fare la Tua volontà. Insegnami giorno dopo giorno a fare la Tua volontà. Nel nome potente e glorioso di Gesù. Amore, Gesù. E allora, insieme, tutti insieme, ci apprezziamo. Amore, parteciamolo, grazie. Andere. Andere. Angela, credi nel Signore Gesù come tuo personale, Signore e Salvatore? Sì, io credo. Amen. Allora, la Chiesa ti battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie.